Il brano della prima lettura, tratto dagli Atti degli Apostoli, ci mostra l'apertura ai pagani che San Paolo compie nella sua predicazione. Stava parlando ai giudei, ma allo stesso tempo afferma che il messaggio di Gesù non è solo per loro, ma per tutta l'umanità, anche per quei pagani che i giudei disprezzavano. Ora, se già il messaggio che Gesù era il Messia, per di più risorto dai morti, poteva irritare gli ebrei, immaginatevi la loro reazione quando si sentirono dire che quel messaggio non era solo per la loro salvezza, ma per tutti. E infatti leggiamo che i giudei sobillarono le piedone della nobiltà ai notabili della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li cacciarono dal loro territorio. Credo che il demonio si annidi e si manifesti in ogni forma di chiusura, mentre Dio si rivela, si mostra, laddove c'è apertura, dialogo, accoglienza, ascolto, inclusione. Quei giudei di Antiochia vivevano una fede chiusa, stantia, ripiegata su se stessa, ma questo può cadere anche a noi, cristiani di oggi. Chiediamoci allora, il mio credere mi apre verso gli altri o mi porta a costruirmi un piccolo ghetto nel quale sentirmi a riparo, migliore e superiore? Buona giornata.